Vogliamo dire che è difficile commentare una doppia partita, una giocata e una non giocata. Quella giocata sono i primi due quarti dove siamo stati presenti, dove siamo stati attivi difensivamente e offensivamente, accettando ogni contatto fisico. Quella non giocata è dopo l'intervallo, che è una partita dove siamo entrati morbidi, abbiamo accettato che ci mettessero le mani addosso e abbiamo fatto non uno ma due passi indietro. Quindi questo è inaccettabile se vogliamo giocare a questo livello, se vogliamo giocare partite dure. Sappiamo che Bambit avrebbe cambiato inerzia, intensità. È naturale che la responsabilità sia tutta la mia, perché la squadra in campo la mando io, la squadra in campo la gestisco io, quindi evidentemente non sono stato in grado all'intervallo, come magari è riuscito all'inizio della partita, a passare quanto sarebbe stata un altro tipo di partita nel terzo e nel quarto quarto. Quindi mi prendo la responsabilità di questa brutta partita, di questo brutto spettacolo, che non ci appartiene come DNA, ma non ci appartiene soprattutto come modo di stare in campo, così arrendevole, soprattutto nel modo di lamentarsi in campo, perché è una cosa che non appartiene proprio assolutamente neanche alla mia sfera. Quindi, ripeto, siccome le scelte le faccio io, la responsabilità è assolutamente la mia. Adesso dobbiamo rientrare, recuperare energie, perché comunque è una trasferta difficile, lunga, e ci aspetta una partita ancora più difficile, ancora più dura, dove vorrò vedere una reazione da parte dei giocatori.